Le particelle fondamentali. Esercizio numero 6. Quale ricercatore ha scoperto il neutrone? Allora, il neutrone è stato l'ultimo, l'ultima particella a essere stata scoperta ed è stata scoperta da Chadwick nel 1932. Il neutrone è neutro, come dice il nome stesso, cioè priva di carica elettrica e ha una massa leggermente superiore a quella del protone. La si considera uguale, si dice circa uguale. È 1839 volte più pesante dell'elettrone, mentre il protone è 1837 volte più pesante dell'elettrone, quindi due unità in più.